Parte Lisuzzo, Marchetti con i pugni, tiro violento ma centrale. Mazzarani, in quattro sono pronti allo stacco, il cross arriva, dentro l'area! Non vanno avanti a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Mauri, prova a calciare Mauri, Fontana, arriva Candreva, e Lavazio ha già pareggiato con il gol di Antonio Candreva, 1-1. Qui attenzione perché pesce, si fa tutto il campo, va dal piede. Poi tocca su Morimoto, caspazio, Morimoto va a calciare, Marchetti va da terra. A largo c'è Morimoto, pronta la seconda posizione di Santiago Garzia. Morimoto può andare in porta, cerca la conclusione, Marchetti. Trova Garzia, Mauri si coordina, Fontana, poi Xana, la palla rimane in area. Arriva alla conclusione, il gol di Kozak. Il gol viene annullato. Porta di Fontana, Candreva sul primo palo, deviazione di Alfaro. Va Mascara! Un gol fantastico, quello di Giuseppe Mascara. Il gol che riporta in vantaggio il Novara al 34esimo minuto della ripresa. Valle Vesma, dentro il mucchio, salta Dias, Fontana! Di scherzato il Novara, batte la Lazio, 2-1 decisivo, calcio di punizione di Mascara. Alla prossima! Alla prossima!